ciao amici come stai guarda questo questa cosa incredibile camper nuovo di anno 91 velo tutto blanco nuovo non li metta lì c andiamo a vedere un'altra l'altro lato guarda questo colore è nuovo fisicamente incredibile no che bello eh che bello bianco non è bianco è più blanco bianco che bianco bianco bello camper è come nuovo 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 e nuovo prezioso sono tante felice sono molto felice ciao amici foto con camper